Sta crescendo la Dolomiti Bellunesi al lavoro dal 22 luglio e impegnata nello sperimentare tatticamente quelle soluzioni che le potrebbero tornare utili nel corso del campionato di Serie D. Così è stato contro il Cavarzano nella terza uscita estiva, dopo quelle contro il Padova ADC e gli appiave di eccellenza. Al di là del 5-0 finale autografato sul campo di Rasai da Masut, Viginoni e Marangona nel primo tempo e nella ripresa da un autorete da Fagan, il tecnico Zanini ha studiato la risposta dei giocatori al cambio modulo, proposto con un centrocampo a 4 e due trequartisti come Marangona e Viginoni prima e De Paoli e Olonisac in poi dietro all'unica punta di allo. Alternative da valutare in vista del campionato 20 squadre che solo tra settembre e ottobre proporrà addirittura 12 impegni ufficiali. Fondamentalmente il discorso che ho fatto prima della partita alla squadra posso tranquillamente a farvelo a voi perché è la stessa cosa. Io ho detto che in questa squadra, e questo non è una classica frase fatta, non esistono per me seconde o prime linee. Cioè qua si va in base alla partita, alla situazione, al momento, alla partita di quello che ho bisogno quindi per me qua sono tutti i ragazzi pronti a dover giocare ogni domenica in base dopo alla situazione. E oggi era una situazione da provare, abbiamo giocato con Sheriff e due punte sotto e due trequartisti sotto con due centrocampisti che hanno fatto bene, credo. Nonostante il passivo ininfluente trattandosi di calcio d'estate, pur in fase di rodaggio il Cavarzano ha dato dimostrazione di essere già sintonizzato sulla medesima frequenza di idee dell'allenatore Massimiliano Parteli. Tornato in giallo rosso dopo la cavalcata dalla prima categoria all'eccellenza e congedatosi post salvezza conquistata nel 2023, il tecnico bellunese si appresta a guidare un gruppo giovane e costruito in modo interessante, in quello, che sarà il terzo anno di fila del Cavarzano nella massima categoria regionale, dove peraltro avrà anche il derby con il Borgo Valbelluna. Io sono molto soddisfatto perché vedo grandissima disponibilità da parte dei ragazzi e quindi stiamo lavorando molto, stanno lavorando anche molto bene, quindi sono veramente contento, anche e soprattutto dei giovani perché ci sono tanti giovani in questa squadra, quindi veramente dobbiamo continuare così.